Il problema del refresh dei terreni adibiti a Pasquale in Sardegna, sollevato alcune settimane fa dalla Col di Retti di Nuoro e Gliastra, nel corso dell'incontro con gli amministratori locali del territorio, sarà al centro di un vertice con l'assessore regionale all'agricoltura Pierluigi Caria, in programma a Nuoro il 26 gennaio. All'appuntamento interverranno i sindaci del Nuorese, 38 dei quali hanno sottoscritto la richiesta di incontro con l'assessore. Anche perché se non si risolve il problema dalla corretta classificazione dei terreni inseriti nelle domande per l'accesso ai primi comunitari, gli agricoltori e gli allevatori non solo vedranno declassificati i propri terreni, ma saranno costretti a rimborsare i primi ricevuti in passato. Infatti la classificazione dei terreni da parte di Agea non tiene conto della particolarità della Zoctenia nel centro Sardegna, in cui il bestiame pascola sotto gli alberi e non solo sulle superfici libere, mentre con Refresh si considera pascolabile solo una superficie non boscata, un criterio che non tiene conto dei benefici che l'ambiente riceve da questa pratica. Nel vertice con l'assessore Caria, l'esponente della Giunta Pigliaro dovrebbe illustrare le soluzioni che la Regione intende adottare per risolvere una volta per tutte questo problema che, sottolinea la Coldiretti di Nuoro Gliastra, sta bloccando diversi milioni di euro di premi comunitari e che a breve avrà conseguenze sulle nuove pratiche della PAC. La Coldiretti, in più occasioni, nel corso del 2017, ha chiesto alla Regione un nuovo decreto che integrasse quello del 2015 e aggiornasse l'elenco delle superfici su cui si svolgono le pratiche locali tradizionali, superando l'ostacolo delle anomalie che escludono i pascoli arborati dalla possibilità di usufruire dei premi comunitari.